guys boys girls and boys listen listen il 90 per cento di persone che sanno guardare questo video non sono iscritte per favore ragazzi iscrivetevi e lasciate un bel like e attivate con la campanellina lì vabbè attivate quella campanellina bellissima che fa dring dring e niente ora vi voglio augurare una buona visione e noi e noi dopo ci vediamo in un altro prossimo video grazie ciao grazie per grazie per se l'emba se l'emba c'è un membro di là andiamo ma chi ma chi se devo sistemare il ventilatore ti dovrò buttare di casa se non lo sistemarei io ti metterò fuori casa sei stupido ora chiamerò la polizia sia mi metri troppo mi mamì uuuuuh ahhhh Niente 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 Ieeeeeeee AHH Yo monkey dovremmo aspettare AH Aspettare Che cosa vuoi monkey Ah, voglio aspettare ma che voglio aspettare! No! Hey! Hey bambino! E' l'uomo dei gelati! E sono io! Come posso aiutarti ragazzino? Uomo dei gelati! Dammi il gelato! Dammi il gelato! Ah, non ti preoccupare! Ma poi io ti regalerò questa coppa di gelato! E' l'uomo dei gelati! Aiutami me! Ah, 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 ah! Io l'ho uccido! Mi hai appena sperato! Tu mi hai appena sperato! Ma chi morirà a tutti? L'ombra! Andiamo per l'ombra! Andiamo! Ah, 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 ah! Ciao, macchina! ORACHI COSA